Dove sono andati tutti i fiori? Dove sono andati durante tutto questo tempo? Ci siamo sposati da poco più di un mese, era il 24 aprile, in primavera. Come avete fatto a farvi accerchiare? Siete tutti degli incapaci, disfattisti e trovitori! Ma un vigliacco come te non mando nulla. Se non ti fucilano quelle canaglia di austriaci, ti fucileranno in Italia, se e quando torni. Per costringere i soldati a combattere, venne adottata la pratica della decimazione. Gli austriaci sono i nemici? Gli austriaci? Che dopo questo ennesimo macello, questo ennesimo assalto senza senso, che io non ho portato a termine, ci supplicavano di tornare indietro? L'Ovacca è un disastro, che c'è da riformare tutto. Allora, signor generale, bisognerà capire tutto. Ma perché ce l'avete con me? Non allontanati da noi. E se ti diciamo di scappare, tu scappi a gambe levate. Volers, no! Voi il via, giù!